È bellissima, nel senso che è il primo festival a cui il film partecipa e vince tre premi, siamo contentissimi. In più, i festival giustamente nascono anche per premiare i film magari più autoriali o comunque che hanno avuto una visibilità in sala minore della mia, del film nostro. Invece il fatto che il film abbia incassato tanto e nonostante questo poi riesco anche a ricevere dei riconoscimenti dalla critica, è meraviglioso. Per te è un ritorno al B-Pest? È un ritorno dopo Smetto Quando Voglio, infatti io sono tornato con grande piacere perché hanno stato conquistato dall'energia di questo festival e quindi nonostante i duemila incastri perché io sto girando un film, Anna pure sta incassitantissima e ho detto andiamo lo stesso e abbiamo fatto di tutto e siamo venuti. Il nostro film ha vari messaggi, quello che a me piace di più ricordare è una sorta di sprono e di incentivo soprattutto per i ragazzi della nostra generazione ad alzarsi dalle proprie sedie, dai propri divani. Grazie.